Buonasera, benvenuti a Hawthorne. Sarà un piacere alimentarvi. Questa serata sarà magica. Nel corso delle prossime ore vi nutrirete con grassi, sale, proteine e a volte con interi e ecosistemi. Mangiamo l'oceano? Mangiamo l'oceano. Stai piangendo? È che trovo tutto molto commovente. Va bene lo stesso se non sono coinvolta quanto te. Oh mio Dio! Non dovrebbe essere qui. Voi, miei cari ospiti, non siete persone comuni. Dico bene? Sì, Chef! Continuerà a fare così? Ciò che accade dentro a questa sala è insignificante rispetto a ciò che accade all'esterno. Noi non siamo altro che un nanosecondo di terrore. La natura è senza tempo. Che diavolo succede? Diamo tutti! Avete domande? È Bergamotto che mi ha dato, Chef? Sì, lo è. Sì, lo è. Solo, ciao! Sì, lo è. Sì, lo è. L'Italia è per il tempo. Sì, lo è.